Un network capillare di servizi e strutture per l'inclusione sociale e lavorativa delle donne si chiama Ring Reti in Genere e il progetto promosso dal Comune ed attuato da PIA Advice con il Centro LUPT di ricerca interdipartimentale della Federico II e il CIDIE con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione femminile napoletana. Si parte dalle reti esistenti per promuovere sul territorio attività che sostengono e migliorano l'occupabilità delle donne. A tal fine è prevista l'apertura di sportelli con funzioni di ascolto e orientamento nelle dieci municipalità, un osservatorio per la raccolta e la diffusione dei dati, l'elaborazione di piani di azione locale per coinvolgere i soggetti del territorio nella pianificazione delle politiche di genere e l'attivazione di tre percorsi formativi. È un momento di formazione con delle professionalità che noi abbiamo individuato come emergenti in città a favore delle donne e cioè 60 donne gratuitamente verranno formate per tre tipi di professionalità con un diplomino riconosciuto dalla regione Campania. Venti come operatrici presso studi medici, vendi operatrici turistiche e poi altre 20 donne che saranno delle operatrici di asilinido. Finanziato con fondi europei, il progetto Ring si rivolge a donne di ogni età, italiane e straniere, che siano residenti a Napoli e senza un'occupazione. Con questo progetto tendiamo e cerchiamo di mettere in moto energie, di mettere in moto opportunità, opzioni e cerchiamo questo contatto continuo tra l'istituzione e le donne della città.